Bella a tutti ragazzogli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo qui su Youtube signori, su Minecraft per una nuova avventura signori Dobbiamo continuare la nostra spedizione delle mucche, allora, aggiornamento, aggiornamento rapido, veloce, indore, prima che vomito Allora, ho allargato con la terra qui, ho fatto di due gradini, così in teoria le mucche dovrebbe essere più facile che salgono e non mi cascano di sotto Perché se mi cascano di sotto muoiono male e quindi è questo, dobbiamo cercare di evitare Oh, è cresciuta una zucca, che cosa carina Signori, aspetteremo che crescono tutte e tre le zucche, dopo che leveremo quelle zucche e metteremo altro grano Che è fondamentalmente quello che ci serve Sta tramontando il sole, forse sì, forse no Allora, signori, intanto grazie a tutti per il supporto che state dando a questa serie che mi fa veramente piacere Sapere che seguite la serie e che vi piace, questo mi rende orgoglioso Allora, costruiamo un attimino il recinto, non so se queste effenze che ciò mi bastano Però io di qua devo passare, quindi un attimino perché mi sono dimenticato a prendere la lana Intanto mettiamo in sicurezza le nostre mucche Perché una mucca in sicurezza è una mucca contenta, signori, ebbene sì, sappiate Una mucca in sicurezza è una mucca contenta Quindi mettiamo tutto quanto così, questa la leviamo e la recuperiamo Perfetto, metti la torcina qui sopra Qui per ora lasciamo aperto Così perché le mucche devono passare E di qua andiamo a recuperare Se non ricordo male abbiamo della lana, signori Andiamo della lana Dalla lana dovremmo avercela qua Sì, abbiamo la lana bianca Che lasciamo bianca C'è del colorante? No, non ho assolutamente del colorante Quindi facciamo il tappetino Ma lo fai con due il tappetino? Perfetto, abbiamo il tappetino, signori Così possiamo uscire in serenità dal nostro ricinto di mucche senza avere problemi Quindi mettiamo un'altra fence qui a chiudere Ok, mettiamo una torcia Ma sì, ma mettiamo una torcia No, no, qua già c'è la torcia Là c'è pure E il tappetino lo mettiamo Sì, direi che qua va bene, signori Un tappetino qui così possiamo tranquillamente entrare e uscire dal ricinto delle mucche Ok, c'ho del grano io? No, non abbiamo il grano Quindi leviamo tutte queste cose che non ci servono assolutamente a nulla Recuperiamo un po' di grano Qua sta crescendo, quindi recuperiamo questo Recuperiamo questo E seminiamo quello nuovo Così ci portiamo sempre avanti con la produzione di cibo e di altre cose varie Il sole sta calando Quindi io direi di andare a dormire Così facciamo le cose con la luce, col giorno E siamo tutti più contenti e tranquilli Così, così Questo abbiamo recuperato Leviamo anche quest'alberello di qua Che la legna ci fa sempre comodo, signori Dopodiché Andiamo a dormire e poi andremo a cercare le nostre mucche, signori Porteremo le nostre mucche nel nostro ricinto E siamo orgogliosi di questo, signori Ci serviranno le mucche? Sì È una cosa intelligente quella che stiamo facendo? Sì La reputo intelligente, signori Per quanto me ne vogliate La reputo una cosa intelligente Allora Molliamo qui il legno Perfetto No, le fenze ancora ci servono Sì Sì E qua invece andiamo a mollare Qua invece andiamo a mollare Le canne da zucchero I semini Grano Tre mi bastano volendo Quindi va bene così E la lana la potremmo anche mettere al suo posto Allora Torniamo qui Posiamo queste altre cose che non ci servono Tipo la lana non ci serve più Questo e questo sistemiamo Questo ci serve di qua Ok Dormiamo Dopodiché Scusate il tono di voce, signori Ma sono leggermente raffreddato E questa non è una cosa buona Per chi deve registrare Perché fa una voce molto rauca E non è bellissimo Però signori Siamo pronti Siamo pronti per la spedizione mucche Oh Sono cresciute tutte e tre le zucche Perfetto Le possiamo eliminare Quindi le leviamo da qua E mettere l'altro grano Ok Calma e concentrati Speriamo che le mucche non siano Infastidite E non siano delle rompiscatole Ce le abbiamo Sono ancora qua le nostre mucchine Sì Mi levi un po' qua così Non abbiamo il rischio di Ok Dovrebbero riuscirci a passare Da qua senza problemi Salve mucche Salve mucche Scusate se vi ho fatto attendere tutto questo tempo Apriamo qui il passaggio Grano in mano E Ok Seguitemi 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 Faccio strada signore Seguitemi Signore mucche Faccio strada Seguitemi Signore mucche Faccio strada Seguitemi Venite venite Salgono Si ammazzano Ok Sono brave Sono brave Sono brave Meno male che abbiamo allargato sta scaletta Sì perché sennò con una sola Eravamo veramente messi male Sì stanno salendo tutti e due all'unisolo Che cosa carina Perfetto Venite qua Belle mucche Signori Più facile del previsto Più facile del previsto Allora Io chiuderei qui Così le nostre mucche sono in sicurezza Gli darei da mangiare Mucca 1 E mucca 2 Così vi riproducete E noi signori Con un bellissimo Abbiamo raggiunto un altro obiettivo Con le nostre bellissime mucche qui E la mucchina lì piccolina Abbiamo fatto una cosa molto importante Signori Abbiamo fatto una cosa molto importante Abbiamo portato la nostra mucche qui Ora Fino a qui diciamo che è stato tutto molto abbastanza semplice Come vogliamo complicarci la vita Ma noi la vita ce la complichiamo per forza Per forza Perché se non ci complichiamo noi la vita Non ci piace Non ci piace Se non ricordo male Avevamo visto una terza mucca là Allora facciamo una cosa Andiamo di qua Ok Ok Ora C'ho del grano Sì C'ho delle fence Sì C'ho della terra Sì Allora Per sì e per no Allarghiamo un attimino Questa zona di qua Che poi la smonteremo tutta Signori Però Non si abbandona mai nessuno Alle nostre spalle Guardatela lì Da sola Sola soletta Abbandonata così Fa suo destino Che piange poverina Perché le abbiamo portato via le amichette Ma noi La riporteremo con le sue amichette Quindi Intanto fatemi levar tutte queste fence Che le recuperiamo E mi sembra una cosa buona e giusta Se distruggerà l'ascia Sì ma le fence ci servono Signori Per una cosa o per un'altra Le fence ci serviranno Quindi portiamocela a casa E non ne parliamo più Così Perfetto Sbaglio? L'ho vista passare di qua Oh sì Ti ho visto passare Guarda cosa c'ho C'ho un pezzettino di grano per te Mi devi seguire Aspetta che ho lasciato una fence qua Ricordiamo la fence Confondiamola Confondiamola così Non capiscio Che la stiamo per andare a Mettere in un punto In cui rimarrà Per qualche mese E poi morirà Per il bene della serie Ma è per il bene della serie Signori Non è per Cattiveria Contro nessun tipo di animale Contro nessuna mucca Nessuna mucca Sarà maltrattata Fino a qualche episodio Poi Più giustamente Le dovremo ammazzare Per il nostro Queto vivere Dai dai sali 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 Ok queste già mi vogliono Mi vogliono Venire a far conoscenza Io qui devo riaprire tutto Ok Ora dovrebbero essere tutte attratte Perfetto Siamo 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 dei Dei prestigiatori Siamo dei prestigiatori Abbiamo Guarda Solo perché ti voglio bene Ti do Ti do il grano Solo perché sei stata brava A salire qua E non hai fatto E non hai fatto capricci Guarda Veramente 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 Complimenti Le mucche ce le abbiamo Signori Che ci fa St'alberello Qua perso Non lo so Vabbè St'alberello Lo mettiamo qui Ora Noi dovremmo però Un attimino Mettere in sicurezza Tutta sta zona Perché direi Che così Non può andare avanti Rischiamo di cascare male Da là Quindi Prendiamo un po' di legno Quindi è molto poco Quindi Ah qua Qualche slab Ce l'abbiamo Facciamo qualche altro slab Vediamo dove arriviamo Signori E mettiamo in sicurezza Quella zona di lì Ne restano due Ne possiamo fare altri dodici Li mettiamo qua Questi li mettiamo qua E questi però li mettiamo qua Con questi 26 Vediamo se riusciamo Ad allargare leggermente Questa zona di qua Più che altro Per essere in sicurezza Quanto meno Magari facciamo Il passaggio Così Allarghiamo un attimino Qui la zona Signori Perché se no Finisce male Qui potremmo Farci anche qualche altra Coltivazione Volendo Volendo Sempre se la troviamo Perché questo già È qualcosa Qualcos'altro Che poi dovremmo andare A vedere Dai così Dai così Dai così Nel prossimo video Nel video di domani Signori vedremo di andare in miniera Per iniziare a raccogliere un po' di ferro E qualche altro utensile Che sinceramente Ci serve Per andare avanti Con la serie Qua ci sono questi blocchi così Gli vogliamo mettere questi sani Ma sai che non lo so Sai che non te lo so dire Sinceramente Sai Qua ci vogliamo Continuare a mettere le scalette Qua vogliamo Continuare a mettere i blocchi sani Ma perché Scusa Mettiamo Continuare a mettere questi slab Così Carini e coccolosi Per ora va bene così Mettiamo qualche gradino Così A caso Qualche gradino Che abbiamo di questo Ma no Perché non abbiamo Altra legna Dobbiamo recuperare un po' di legna Da qua Ricopriamo un po' di legna Da questa cassa di qua Facciamo magari la metà La metà da me basta Dovrei riuscire Dobbiamo mettere anche una Craft in Devil In questa zona di qua Io ricordo sempre Che qui signori Ci sono C'è il balcone obiettivi Ovvero dare il nome Peppe Alla ranocchia E costruire un mulino Il mulino lo faremo qui Dove c'è il grano Sì qui più o meno che sorgerà enorme Qui il nostro mulino Ma se non abbiamo le pecore Le pecore senza la lana Non posso fare un mulino degno di nota Signore Se dobbiamo fare una cacata piccolina Non ha senso Voglio fare un signor mulino Allora Facciamo qualche gradino Giusto per mettere in sicurezza la zona Così va bene Qualche altro slab Facciamo qualche altro slab Anche se già ce ne avevamo qualche altro Questo ce l'abbiamo Questo ce l'abbiamo Questo lo possiamo mettere qui Facciamo queste piccole modifiche Alla nostra base E così quanto meno Siamo un attimino in sicurezza Dammi il gradino Vediamo se me lo fa mettere Me lo fai mettere così il gradino No Me lo fai mettere così il gradino Qua te se lo perdi Perché ti ammazzo Mi è costato Ok Me lo fai mettere Così Ok me l'ha fatto mettere Mettiamo un attimino in sicurezza Questa zona è qua Allarghiamo un attimino qua Così Abbiamo anche la discesa rapida Qui però lasciamo tutto così Mettiamo altri tre blocchi di qui Stiamo continuando ad allargare la nostra zona Signori Sempre di più Sempre di più Ci espanderemo come se non ci fosse un domani Quanto meno restano? Quattro? Va bene Possiamo piazzare uno Sì Perfetto I calcoli tornano I calcoli tornano E il video è riuscito Signori Ci siamo riusciti a portare a casa No Mi sono finiti Ma porca Mettimi un gradino qui E non posso mettere altri gradini Perché rischio di cascarsi sotto Niente signori Dobbiamo fermarci così con i gradini Però già Possiamo salire qua Che già è tanta roba Recopriamo ste zucche Che sono interessanti Ma Hanno il tempo che No Devi levarmi questo Levarmi questo Levarmi No Levarmi questo Seminiamo Altro grano Che è quello che realmente ci serve Signori Le zucche le posiamo qua Non penso che le zucche ci servino a qualche cosa Quindi Direi che possiamo fare così Perché il grano invece ci serve per le mucche Quindi dobbiamo espandere La nostra popolazione di mucche 1 2 3 1 2 3 E 4 Raccogliamo quello raccogliabile 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 Che in italiano è raccogliabile Vabbè Non Dettagli Domande a cui non sappiamo dare una risposta E non vogliamo dare una risposta Questo l'abbiamo fatto Perfetto signori Io direi che Per questo video Che sta uscendo in ritardo Vi chiedo scusa Ma purtroppo ho avuto qualche problema Con La Registrazione E È tutto Le mucche Le mucche ce le abbiamo Signori Io vi ringrazio per la visione di questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i succedimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao